allora ragazzi prepariamoci mentalmente ormai siamo a ridosso del weekend di barcellona la tappa in spagna potrebbe non essere tanto simpatica alla ferrari ci sono tante variabili che possono compromettere weekend ma sulla carta la ferrari non parte come favorita l'obiettivo dunque potrebbe non essere la vittoria direi che è corretto per il momento iniziare a parlare di podio poi ovviamente in base a prove libere 1 prove libere 2 e prove libere 3 qualcosa cambierà ad oggi io credo sia la cosa più corretta da dire la ferrari non parte favorita e qualora dovesse andar bene e anche perché la bontà degli aggiornamenti portato a imola ha dato dei frutti ulteriori step evolutivi per questa tappa possono aiutare c'è anche la possibilità di montare un nuovo fondo adesso vediamo se questo arriva e debutta sulla sf24 però diciamo che per quello che offre la pista in teoria anche sergio perez dovremmo vederlo là davanti non oso immaginare max verstappen ma perché parti così disfattista tonio alla fine abbiamo visto che con la mcl38 la rb20 e la sf24 tanto vicine anche un circuito amichevole a una determinata monoporto opposto può portare qualcun altro a vincere la prima forza in cana della mclaren alla fine ha vinto redbull ma magari giocano un ruolo chiave ai fattori esterni assolutamente vero il tema dell'asfalto molto abrasivo il tema delle temperature le gomme giocheranno sicuramente un ruolo chiave però meglio partire di sfattisti perché quello dovesse andare tutto male già siamo preparati già siamo mentalizzati e se invece esce fuori un podio siamo addirittura contenti mentalità raga perché sennò a fine anno non ci arriviamo comunque il circuito del mommelo ci può dire tante cose in realtà potrebbe anche forse delineare come può essere la stagione da qui fino alla fine dell'anno sono tante gare quindi questa frase la prenderei un po con le pinze però sì essendo un circuito dove generalmente si fanno i test un circuito completo peccato per l'ultima chicane l'ultimo destra sinistra destra che è stato tolto la rendeva completa davvero al 100% aggiungendo un tratto tanto lento comunque molto indicativa ma oggi l'ultimo settore chiude con un curvone veloce e dunque si portano ali da medio alto carico quasi tutte le curve sono a marce alte tanti curvoni veloci e chi sviluppa tanta trazione è in teoria la favorita per questo weekend la monoposto migliore sotto questo aspetto è la RB20 ma come ho detto prima c'è una variabile che può stravolgere tutta la gara l'usura la gestione delle gomme l'usura del tracciato è molto alta in particolare quando si arriva in curva 3 in curva 5 dove ti giochi tanto a livello di gomme in curva 5 abbiamo anche un leggero banking tratti che stressano tanto lo pneumatico dunque trattare questi con i guanti è fondamentale il layout proprio in questi tratti di pista in tratti come la 7 come la 8 mettono molti risalto l'aerodinamica e il telaio di una monoposto motivo per cui non vedo neanche poi tanto sfavorita la mclaren sia perché la mcl 38 dai aggiornamenti di miami in poi sta funzionando in circuiti molto diversi ma anche per lo stato di forma dei piloti e in particolare lando norris nelle ultime 5 gare ha portato a casa tre podi e una vittoria e quell'unico quarto posto l'ha portato a monaco però lì è il suo compagno di squadra a salire davanti capite quindi meglio di me che se tre e quattro vetture perché mercedes in canada c'è stata sono molto vicine sono in tanti a giocarsi la vittoria e magari il circuito si è amichevole a una però il setup fa tanto le strategie fanno tanto altro tema potrebbero essere i pit stop qui perché si dovrebbe andare sulle due soste i dettagli dunque fanno la differenza norris in canada ha perso per due fattori vi ha fatto una testa grossa così su questo discorso per via di un max verstappen che sta over performando o che forse sta dimostrando di essere un fuori classe e per via delle strategie l'overcut è stata una scelta azzardata e il far rientrare lando norris dopo un giro di safety car lo ha spostato dalla prima posizione alla terza e se tutti sono vicini compromette la gara se non avete mai sentito uscire dalla mia bocca queste parole perché probabilmente non siete iscritti quindi mi raccomando iscrivetevi al canale campanella delle notifiche mi aiutate tantissimo ah e mi raccomando passate anche su instagram perché sto lavorando un progetto collaborazione con 12 cilindri che scoprirete per bene su instagram adesso a proposito di 12 cilindri grafica degli orari del weekend che sono a cura loro questi sono gli orari del gran premio vi ricordo di seguire oltre la formula 1 anche la formula 2 la formula 3 in particolare questa settimana la formula 2 io la seguirei con tanta attenzione perché come avete capito e mi sta tanto a cuore ed è per questo che non ne parlo andrea chimiantonelli in teoria lo vediamo in mercedes l'anno prossimo salvo clamorosissimi colpi di scena ossia verstappen si propone i mercedes detto questo nonostante l'inizio molto pessimista il circuito di barcellona può dirci tanto non a caso prima i test di formula 1 si svolgevano a barcellona tanti test privati sono stati fatti a barcellona e non è un caso che tanti team portano importanti pacchetti di aggiornamento proprio in questo circuito noi tendenzialmente parliamo di ferrari però anche la mercedes porterà importanti aggiornamenti qui e dato che lo scorso anno sia emilton ma anche russell sono andati molto forti qui vedoci anche da un buon risultato in canada non sia mai succeda qualcosa potrebbero essere addirittura 4 le forze in campo se non erro l'anno scorso russell partì undicesimo e arrivo a terzo quindi anche gara e rimonta l'asfalto del montmelò è molto abrasivo curva 3 e curva 5 dovrebbero essere quelle che più stressano gli pneumatici solitamente la curva 3 la si fa in pieno forse qualche pilota può fare un leggero lift ma tutto sommato curva 1, 2 e 3 non mettono in difficoltà la ferraria complice il fatto che ha un antirrore molto forte complice il fatto che riesce ad entrare in curva portando tanta velocità oltre forse un leggero sottosterzo proprio alla 3 in teoria l'asf 24 non dovrebbe perdere tanto qua poi dipende anche dal setup perché magari vai a sopperire per andare forte magari dove dovresti andare lento tipo la 7 e la 8 magari hai difficoltà dove vai forte un po' come ha fatto mclaren a miami che doveva soffrire sul lento ma in realtà è stato il suo punto di forza perché ha deciso proprio di sacrificarsi in alcuni punti dove si potrebbe soffrire quindi in salita tra la 7 e la 8 fino ad arrivare in curva 9 dove si richiede tanto appoggio con lo pneumatico e un grosso sforzo proprio a livello di grip gli aggiornamenti mirerebbero dovrebbero mirare proprio in queste zone ma anche qui è tutto da vedere si confida tanto sui test pirelli svolti da ferrari ferrari ha avuto la possibilità di girare al mugello proprio al mugello che ricorda abbastanza proprio il circuito di barcellona per i suoi tratti veloci non parlerei di una prima prova libera svolta però quasi una fp0 charl eglerc e carlos heinz l'han portato a casa inoltre con charl non abbiamo avuto problemi di affidabilità il che è un'ottima cosa visto che stiamo andando in un circuito dove le temperature probabilmente saranno alte dunque non avere problemi all'elettronica la parte ibrida e alla power unit in generale torna utile l'affidabilità è e rimane un tema sia se si parla di ferrari ma anche se si parla di red bull tutti hanno problemi ci vuole anche un po' di fortuna a volte ma ne parleremo ragazzi quindi mi raccomando iscrivetevi al canale campanellina delle notifiche social in descrizione ci vediamo per il pre gp io vi saluto da tonio era tutto passo e chiudo